L'erosione causata dai tagli eccessivi è evidente nella foresta sarda del Marganai che stava riprendendosi a fatica dopo i tagli radicali operati per oltre un secolo. Mancano esattamente quasi 8 centimetri, 7 centimetri e mezzo di suolo. Cioè quello che è stato asportato qui è il suolo che avremmo dovuto perdere in oltre 20 anni. Un altro problema è che in questi boschi abbondano i cinghiali e i cervi che dopo i tagli brucano ogni pollone compromettendo la ricrescita del bosco. Ecco, mediamente siamo intorno, vedete, ai 70 centimetri. Ecco, mentre un pollone di leccio dell'eltà di 4 anni, come nel caso specifico, dovrebbe avere non meno di 2 metri d'altezza. Quella della legna da ardere, a differenza del legname da segheria, è oltretutto una filiera povera con pochissimo valore aggiunto che si disperde fra mille subappaltatori, come questo giovane rumeno. Questa ditta, allora penso questo bosco, che sono venuto per farlo. E io prendo un 10%, diciamo, per tutto guadagno. Capita così che alberi ormai quasi centenari possono addirittura dalla Sardegna finire in Lazio per produrre pelle. Si sta tornando veramente su decisioni che sembravano ormai tramontate, consegnate al libro della storia. Nella foresta demaniale di Scannoneris, per esempio, vorrebbero portare al governo del Ceduo, così si chiama, ben 375 ettari. Ma qui stiamo parlando ormai di alberi che non conoscono tagli da decenni, 60, 70 anni anche. Gestione sostenibile vuol dire anche lasciarli in pace. La gestione più sostenibile di tutte. Allora, qua si apre una questione. Che vuol dire il governo del Ceduo, intanto, questo Scraccio Mugnozza? Allora, faccio un piccolo esempio. Le piante, gli alberi nascono o da seme, quindi quando cade il seme e viene fuori la piantina che darà origine alla fustaia, all'alto fusto. Se invece si taglia, come in quel caso, alla base, diciamo, alla ceppaglia, quindi a livello del terreno, una pianta, questa qui può anche ricacciare tutta una serie di gemme, cosiddette a livello vegetativo, quindi con propagazione vegetativa. Queste sono le due forme di governo del bosco, o l'alto fusto o il Ceduo. Ma sono anche due scuole di pensiero? No, non sono due scuole di pensiero. È vissuto soprattutto in collina e in montagna, ma anche in pianura, facendo affidamento per tutte le esigenze primarie di riscaldamento per cucinare e così via alla legna da ardere oppure al carbone derivato dalla legna. Quindi questo è quello che ci ha, diciamo, sostenuto per secoli. Ovviamente questo ha anche impoverito moltissimo i nostri boschi. Grosso modo un po' meno della metà dei boschi italiani sono boschi cedui. Però negli ultimi 50 anni hanno avuto una grande capacità di recupero, sia i boschi di alto fusto che soprattutto i cedui. Se posso anche aggiungere... Abbiamo poco tempo, pochissimo. È vietato ritornare dall'alto fusto, come è stato fatto vedere nel filmato, al Ceduo. Questo è assolutamente vietato. Allora, poi abbiamo un ultimo servizio filmato. Allora, poi abbiamo un ultimo servizio filmato.